L'esercizio dell'arciere L'esercizio dell'esercizio 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 dell'eserciz Attenzione, non sollevare le spalle. Gomito e mano con la freccia sono alla stessa altezza. Tenere dritta la schiena. Ruotare soltanto il busto. Il bacino e le gambe restano fermi. I piedi restano a contatto con il suolo senza scivolare in avanti. Variante facilitata. Schiena dritta appoggiata a uno schienale basso. Variante più difficile. Sguardo sempre rivolto in avanti. Tenere l'arco teso per alcuni secondi. Possibile applicazione. Svolgere l'esercizio dopo la colazione o durante la pubblicità in tv. Obiettivo dell'esercizio. Miglioramento della mobilità della colonna vertebrale e rafforzamento degli estensori dorsali e dei muscoli delle spalle per favorire una postura corretta. Grazie. 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 Grazie.